Pesce cani e balenotri, pesce spada e poli più feroci attorno stanno ad un coperchio chiuso senza capire quale sia il segno della loro più tenera manifestazione. Ora vorrei, vorrei gridare più forte che la zatta la fonda che non è leale, che non è giusto, che non è vero. Ma penso che ormai vana la sua sorte. Stanno sui fuochi arroventate le armi dei valorosi condottieri che per l'onore e la patria furono guerrieri e che la morte non fa l'oppaura. Stanno racchiusi nelle anfore d'argento le ambiguità di ogni momento che nella vita non sono certo poche, specie per chi è schiavo atroce, schiavo di un vile e disegnato sistema. sistema sbagliato.